ma sempre nei quartieri chiamiamoli così più fragili no perché è giusto che in un quartiere come questo ma io per esempio adesso siamo qua zona tufolo e faremo sicuramente qualche murales anche qui non lo andiamo a fare iori non lo andiamo però ci sono tanti altri artisti internazionali cambiamo l'obiettivo è quello di portare la gente in questi quartieri qua tra l'altro a via mastracchia i famosi 300 alloggi c'è un progetto di bike sharing ma c'è il mcdonald qui questa sarà un'area che sarà rivitalizzata e rigenerata e riqualificata al cento per cento i soggetti dei tratti dei murales no no questo questo no li valuteremo di volta in volta sappiamo che saranno artisti internazionali e puntiamo sul bello ecco è vero che sarà dipinto il volto di mie martini no no guardi su queste cose non voglio dare indiscrezione perché ancora non ne abbiamo discusso abbiamo dato un atto di indirizzo ai agli uffici e vogliamo proseguire in quest'opera di riqualificazione non solo con cantieri molto ma molto importanti ma anche con le piccole cose che i cittadini bambini possono veramente fruirne a a Grazie per la visione!